Siamo a Misano al premio dei camion, noi c'è la gara di camion del Grand Prix e noi abbiamo scelto lato usato di mettere due macchine, due Sway del 2021 a disposizione per le prove, macchine usate certificate, sono degli AS440 e AS48, motore 11 litri, macchine completamente ripristinate, certificate, ripristinate sia a livello estetico che a livello meccanico, macchine con spoiler, con minigonne, macchine paritetiche fondamentalmente a quelle al nuovo, chiaramente dove la garanzia è attivabile, uguale garanzia tecnica che offriamo anche sui veicoli nuovi, sia driveline che contratti di manutenzione e riparazione, molto complete a livello di dotazione, hanno un clima fermo, cambio automatico, intarder, insomma sono macchine che con 300.000 km hanno una seconda vita garantita, certificata per tutti i nostri clienti. Un camion veramente molto bello, una manovrabilità estremamente semplice, una bella prova in pista qui a Misano. La coppia si sente parecchio, devo dire che si guida veramente con un dito. L'ho trovato un motore molto elastico, una buona visibilità, è un bel mezzo, sto facendo bei mezzi di Iveco. Veramente bellissimo, puoi guidare un Iveco, quello ovvio non ha prezzo.